Ciao a tutti ragazzi e benvenuto in questo nuovo video di Alien Isolation Ecco che eravamo rimasti qui a prendere la torcia con il ventilatore e con Axel Allora dovremmo entrare in questo tubo qui e seguirlo Che sai che persona sia buona o cattiva? Comunque c'è la torcia, come vedete, la batteria, non so fin quando durerà E ora? Controllo il condotto, dovrebbe essercene un altro qui intorno L'ho segnato per non dimenticarmene Usa la torcia per trovare le entrate del condotto Che ne dici di dare un'occhiata? Restiamo qui finché non avrai trovato quel condotto Usa la torcia con parsimonia Consumo la veloce Tutto chiuso qua Axel, è questo Aspetta, arrivo Lo sapevo che era qui intorno, visto? Ci penso io Vai, apri Forza C'è un bastadone un pugno, lì? Si, apri Non è una buona idea restare troppo a lungo qui Usciamo poi È così che tutti si spostano qui Solo chi vuole restare vivo, principessa Torrens, allora è la tua nave, eh? Zitta, ho sentito qualcosa Sì, ho capito, va bene Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va C'è sempre qualcosa che non va Forza, non lo facciamo in nervosia Mi sentite al sicuro? Io proprio no Seguimi Ok, dobbiamo fare piano qui Non accendere la torcia Credo comunque che ci servono un piaccio Armi, cibo Vai piano Aspetta Che succede? Qualcun altro è stato qui Tenete gli occhi aperti E le armi pronte Sparate a chi non le conosce Ricevuto Restate qui, io controllo le scorte Come sta andando? Tutto a posto? Sono armati? Troppo a poter A trombare Dobbiamo comunque riuscire a girarmi Il portello in fondo Come? Troviamo il diversivo Ingenerativo Se saltassi dovrebbero andare a controllare Ottimo Cerco molto per distrarre i saccheggiatori Io? Che devo fare? Perché ti sei servito per me Che cosa cazzo vorresti dire? Ehi, è stato con me per tutto il tempo Mancano cibo, munizioni, medicina Se non è stato uno di noi, avevamo ragione Qualcuno è stato qui Non va bene Dovremmo essere al sicuro Qua giù Merda Che cazzo succede? Il generatore è morto E si è spento da solo? No, c'è qualcuno Meglio controllare Che noi andiamo sotto qua Non dobbiamo fare un'altra tax E lì Non sembra Chi c'è? Esci fuori e non ti faremo niente E come lo sai Einstein? Da questa parte Seguimi Così Di certo ora non funziona L'interruttore di emergenza Un topo forse Si è incastrato e l'ha attivato Un topo? Solo un enorme rato Un'acqua Ecco Facciamo piano Non c'è ancora qui Mi c'è Andiamo Quanto manca? Ci siamo quasi La navetta è poco più avanti Spero solo che la tua nave sia ancora lì Se va sto polone Che vuoi te l'aspettavi Come si passa? Non dovrei nemmeno essere qui Sarei dovuto partire la settimana scorsa Vediamo cosa c'è qua Vabbè Lasciamo stare queste cose qua Che non si capisce niente Allora Eh Dove si va? Qua? Di pista una corrente Ok È bloccato Quegli stronzi ci hanno isolati Ho capito Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aperto Io mi occupo di questa Tu vai a quella dall'altro lato Ok Ah questo qua E poi E dove sta l'altro? Pronta? Al mio tre Uno Gli altri stanno arrivando Dobbiamo andare La vivenza Lo capisci? Hai sentito? C'è qualcosa? Axel Oh cazzo Ma che roba è? Che roba è? Che roba è? Oh cazzo Ma che roba è? Che roba è? Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Non cazzo Grazie a tutti. Dove vado, dove vado? Va lì. C'è qualcuno lì? Boh. Eh dai, fatemi uscire, porca di sotto. Sì, è gelato qua. Fammi entrare. Così, R2 di spazio. Molto. Pronto, non è indietro. Ok, qua parte era blocata. Cos'è il cavolo faccio? Deve ottenere qualcosa? Non lo so. Ma... Ma... Qui cosa c'è? Non c'è niente. Quindi anche qui. Il pistano a corrente. Ok, almeno questa si è aperta. Non c'è niente. Cos'è stile? Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. C'è niente. Ok sono salvo, porca miseria che tensione, benvenuti a Sevastopol, porca miseria. Ok siamo arrivati lì, si è aperto lo sportello. Non so dove siamo, qua ci sono un sacco di porti, qua non capisco niente. Mamma mia, ti neanche molto per nascondere. Quasi ci rasconde pure, perfetto. Andiamo sempre bene, non che andiamo avanti. Grazie a tutti. E' possibile, qua non c'è il suono? Non funziona, ok. Portello è bloccato, non si può dare una spaccata. E' la vita così bella. Ok. Prendere l'ascensore per la segreta con molti. Ok, dove sta? Fargale! Aspetta! Ehi! Venite qui! C'è qualcuno! Aspettami tesoro. Che cazzo sei andato? Scomparsa. Scompagna come dei fantasmi. Non c'è niente di utile. Che è? Non c'è niente di utile. Che ha fatto, non c'è niente di utile. Non c'è niente di io, a bella che il cuore. Non c'è niente di lui? Non c'è niente di uga. Un sintonizzatore per l'accesso Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore I circuiti sono distrutti, no problem Andavo solo a trovare una nuova cellula dati Ok, adesso dice Trovo una cellula dati per riparare la sintonizzazione Porca miseria E dove la trovo? Ma se lo vistava tra le scorte come noi Puoi veramente rischiartela così Ok, proviamola e facciamola fuori Oh Ehi, cazzo La tua puttana La tua, c'è qualcuno La tua, cazzo La tua, cazzo Porca miseria Oh, merda Dov'è finita, cazzo? Bene, quando li trovate, sparate Riportare subito ogni malfunzionamento del servizio Questi bastardoni qua Occhi aperti ragazzi Occhi aperti Non sopporto di dover fare questa cosa Non ho ancora trovato niente Chi vuole finire la ricerca? Sono andati da un pezzo Si prega di non lasciare un segno Vediamo se riesco a uccidere a qualche po' Qualcun'altra si Qualcun'altra si sta muovendo fuori? Oh, cazzo Ma dove cazzo si deve andare? L'ho bloccato, ok. Prende l'ascensore. Cazzo! Ehi, venite qui! C'è qualcuno! Vai, come vuoi? Ah, lei era qui. Un sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Non devo solo trovare una nuova cellula dati. Forse ero che stava tra le scorte come noi. Vuoi veramente rischiartela così? Ok. Proviamola e facciamola fuori. Aspettate. Abbiamo via il tempo! Così? 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 Lo dico c'erano le r kans ignore. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.